Polifemo, come tutti sapete, intende valorizzare e promuovere il territorio. La nostra mission è quella di vivere secondo natura, per così dire, e allora dobbiamo cogliere tutte quelle opportunità che ci permettono di riqualificare l'esistente promuovendo il territorio, promuovendo le nostre origini, le nostre tradizioni, le nostre radici e quanto ha fatto Casa di Gioia una masseria in Agro di Mottola, provincia di Taranto, una masseria ristrutturata che assolve ad una mission quella, come detto, di far rivivere gli antichi splendori di questa masseria, ma anche proprio la finalità di salvaguardare certe antiche maestranze. Ma lo scopriremo proprio ora analizzando questo progetto. Progetto MAS, un progetto davvero innovativo che da un lato intende ristrutturare le antiche masserie, dall'altro proprio ha lo scopo di salvaguardare e di promuovere le antiche maestranze. Ne parliamo con l'amministratore, il dottor Giuseppe Fanelli. Com'è nata questa idea? Certamente ambiziosa. MAS nasce da un'idea di un team di giovani vogliesi, tra cui oltre me c'è Gemma Lanzo, Carmine Chiarelli, Francesco Lasigna e Crispino Lanza che avendo avuto esperienze all'estero hanno deciso a un certo punto di tornare in Puglia e investire nel proprio territorio aprendo una nuova società che si vuole occupare della valorizzazione del patrimonio storico immobiliare ed anche con un occhio molto interessato allo sviluppo... Vigile. Vigile, esattamente, allo sviluppo sostenibile, ma come lo vuole fare? Non lo vuole fare da solo, vuole fare creando un network di professionalità, di artigiani che devono essere pugliesi, anche professionisti pugliesi, che insieme a noi devono portare, diciamo, devono seguire una filosofia, noi la chiamiamo, che si basa su tre criteri ecosostenibilità, innovazione e tradizione pugliese, quindi made in Puglia. Ecco, come vedete, questo, vogliamo precisarlo, non è un redazionale, ma sposa quella che è la mia filosofia editoriale, promuovere il territorio, far crescere il territorio, restando ovviamente ancorati alle antiche radici, uno sforzo che vede coinvolti anche altri enti, innanzitutto la Regione Puglia. Sì, la Regione Puglia oggi ci ha dato un grosso aiuto nell'organizzare una conferenza alla Fiera del Levante e perciò la ringraziamo, patrocinando, diciamo, questo workshop tenuto alla Fiera dove hanno preso parte eminenti personalità, anche professori del Politecnico di Milano, professori del Politecnico di Bari, non solo dello scenario del design e quindi non solo dello scenario dell'architettura, ma anche dello scenario culturale italiano è importante dirlo pugliese. E siamo ora con l'architetto ingegnere Carmine Chiarelli, beh, colui il quale ha, come dire, scolpito prima mentalmente, poi dato disposizioni, ha scolpito, ha dato vita a questa masseria ristrutturata. Qual è stato, come dire, lo spirito guida? Beh, in realtà non l'ho plasmata, nel senso che la masseria... Riplasmata, magari. La masseria, infatti, c'era già e noi abbiamo, diciamo, affrontato questo lavoro con grande umiltà, credo, che è necessario quando ci si approccia a questo genere di interventi. La struttura meritava già di per sé grande attenzione e noi abbiamo semplicemente ripulito e riportato allo stato originale alcune cose, volendole mettere in evidenza, aggiungendo quel tocco di modernità e contemporaneità che ci ha contraddistinto. Io non sono un tecnico della materia, sono un profano, ma ho notato l'antico cammino, ho notato l'antica pavimentazione, recuperati i mattoni dell'epoca e risistemati. Sì, appunto, abbiamo ripulito i muri e quindi anche il camino, che era un elemento importante nella vita di questi luoghi, no? Il camino cucina abitabile e i pavimenti, che ci sembravano comunque un segno della storia, sono pavimenti che quando li abbiamo tirati su abbiamo scoperto essere stati realizzati in un paese qui vicino e quindi secondo noi era importante mantenerli. Li abbiamo anche spostati, alcuni da una stanza all'altra, perché meglio si sposavano con le nuove logiche spaziali interne dell'edificio. Però, diciamo, tutto è cambiato e nulla è cambiato in realtà, perché lo spirito del luogo non è stato alterato, almeno questo era il nostro intento. Spero di esserci riuscito. Dunque il progetto MAS, innanzitutto la valorizzazione del territorio, facendolo crescere, facendolo risorgere, e dal punto di vista economico, e dal punto di vista storico, valorizzando l'esistente, sfruttando le risorse naturali. Gabriella Quero, proprietaria della struttura, certamente un atto d'amore verso il territorio, aver acquistato una struttura in condizioni ovviamente fatiscenti e rimessa a nuovo. È un modo per promuovere il territorio e conservare le proprie radici sul territorio. Sì, assolutamente. Abbiamo deciso di fare, di intraprendere questa avventura, quindi di acquistare quest'immobile abbandonato da 60 anni, e l'abbiamo messa a nuovo proprio per la voglia di trasmettere a tutti gli ospiti che verranno alla Casa di Gioia la Puglia, perché io dico sempre che la Casa di Gioia è la Puglia nella sua massima essenza. E avete avuto anche l'abilità di mantenere le antiche caratteristiche? Assolutamente sì, non abbiamo stravolto nulla, quindi abbiamo mantenuto l'immobile nella sua origine, solo un po' di modernità e contemporaneità che ci voleva necessariamente, ma tipo tutte le mangiatoie, quello che c'era all'epoca, abbiamo lasciato tutto intatto. Bene, un polifemo davvero ricco, un polifemo variegato, come al solito per tutte le sensibilità, per tutti coloro i quali vogliono crescere insieme a noi, promuovendo il nostro territorio, con i suoi problemi, con le sue difficoltà, ma noi rimaniamo a Taranto per migliorare Taranto, la sua provincia e tante altre realtà pugliesi. Se Dio lo vorrà, ci vedremo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 78 del Digitale Terrestre, Delta TV, e non dimenticatelo mai, non è venerdì, se non c'è polifemo, polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.